Un bilancio preventivo per l'esercizio 2018 ambizioso di ampio respiro e con scelte qualificanti per tutto il territorio di Colli al Metauro. Aguzzi presenta orgogliosamente assieme alla sua giunta ciò che porterà in consiglio per l'approvazione nelle prossime settimane. Per la gestione ordinaria abbiamo incrementato, dice il sindaco, la spesa in settori qualificanti della comunità e tutto questo senza minimamente aumentare i tributi. 50.000 euro in più per disabilità, povertà ed anziani, 50.000 euro in più per la verifica sismica delle scuole di Calcinelli e Montemaggiore ed ancora nuove gare d'appalto per trasporto scolastico e refezione con aumento della spesa a favore della qualità del servizio e poi anche 20.000 euro per la promozione del territorio a livello turistico. Intanto siamo molto soddisfatti come amministrazione di come siamo riusciti ad impostare questo bilancio perché non era affatto scontato tra i comuni che si fondono insieme è una situazione di complicatezza diffusa se vogliamo sotto ogni punto di vista eppure dopo questi primi sei mesi siamo riusciti ad impostare un bilancio secondo me molto alto, lungimirante, senza un aggravio di tasse verso i cittadini. Ma a Guzzi non è un novello Harry Potter con la bacchetta magica, a questo risultato si arriva per capacità gestionali e sfruttamento delle risorse derivanti dal contributo per la fusione che ammonta a 1.570.000 euro per quest'anno. È vero che ci sono maggiori finanziamenti dallo Stato ma è vero anche che c'è una nostra capacità di interpretarli questi finanziamenti e di metterli a frutto. Ma ciò che caratterizzerà il 2018 per questa amministrazione è anche la voce investimenti che per importo e valenza rappresentano un unicum per questo territorio. Colli al Metauro, 12.500 abitanti, prevede per l'anno 2018 investimenti su questo territorio per 3.750.000 euro degni di una città capoluogo di provincia. Una pioggia di denaro che si spalmerà in maniera uniforme su tutto il territorio di Colli al Metauro però rispondendo ad effettive esigenze come l'ampliamento dei cimiteri di Montemaggiore e Serrungarina o per la rotatoria nei pressi di Calcinelli in compartecipazione con l'ANAS ed investendo nelle risorse umane con l'innesto di due figure nuove nell'ufficio tecnico e di altre due nei servizi generali. Ma ciliegina sulla torta, Aguzzi rivendica anche che il comune di Colli al Metauro è tra i primi ad aver messo in atto nuove forme di gestione del personale. Possiamo affermare, riferisce il sindaco, che è uno dei pochi comuni che vanno nella direzione dello smart working finora sperimentato solo da grandi colossi privati delle telecomunicazioni e di altri settori. Infatti, dal 15 gennaio sono state attivate due nuove postazioni di telelavoro ed è stato così che un responsabile del settore in recente maternità ed un collaboratore amministrativo in condizioni di disabilità hanno potuto continuare a lavorare in telelavoro dalla propria abitazione.